Il scudetto del Milan sono sempre le stesse, parola di Leonardo. Credo che la situazione non sia cambiata rispetto all'ultima giornata, ha detto il tecnico alla vigilia del match contro il Catania. La Roma giocherà anche in Coppa Italia, ma penso che sia la squadra più in forma adesso. L'Inter ha tanti impegni importanti da gestire. Proprio per questo il brasiliano continua a tifare virtualmente per i cugini nerazzurri in vista della semifinale contro il Barcellona. L'Europa, dice, porta grande entusiasmo, ma richiede molte energie da spendere. Intanto domani a San Siro arriva il Catania, contro il quale all'andata il Milan vinse grazie a Untelar dopo una partita molto sofferta. Oggi il Catania è diverso, ha continuato, prova a giocare anche se sa difendersi bene. Questo può far diventare la partita più bella. Leonardo dovrà fare i conti anche con la lunga lista di infortunati, anche se recupera due tasselli importanti. Serof e Borriello dovrebbero farcela. Sul suo futuro l'allenatore glissa. Non è il momento di parlarne.